Dopo il drammatico incidente in cui sono decedute sei persone a Custonaci nella fine di marzo, un altro tragico incidente si è verificato ieri a Custonaci. Nel tardo pomeriggio di ieri, giorno di Pasquetta, un 23enne che viaggiava in sella ad una Honda mentre percorreva la strada provinciale in contrada a Purgatorio ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. L'incidente si è verificato non molto distante dal luogo della strage del 26 marzo scorso. Sul posto è giunta subito un'ambulanza e la polizia locale. I sanitari hanno prestato le prime cure al 23enne di Custonaci rimasto ferito e vista la gravità delle ferite riportate lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Il giovane è in prognosi riservata. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.